Partita questa finale, 3.000 punti, 15.000 da percorso, campagna 1.13, primi punti 1.12. Subito si parte veloci per questa finale, la ricerca dei 3.000 punti, primo passaggio a vuoto. Siamo al passaggio di 1.13 dove suona la campana a lanciare i punti sul prossimo giurdo. A condurre il giuramento di 1.13 da tutta la malattia dell'infanzia dall'Aviglianza Iain, primo riguardo di meno 12 punti al passaggio, 33.170, 33.170, questi primi punti assegnati. Subito, e Dupo, monta dopo l'attore. Subito, veloci, suona la campana dei miei unici giri del passaggio. Subito, veloci, suona la campana dei miei unici, 3.000 punti al passaggio. Ed è Rossella che si è andata a condurre, la campana dei miei unici, 30.170.